ciao ciao a tutti e benvenuti su archidee nel video di oggi come vedete parliamo di essiccazione dei fiori vi avevo mostrato questo metodo anche in un altro video qualche mese fa ma volevo riprendere l'argomento perché ho fatto diversi tentativi e volevo raccontarvi le mie scoperte anche farvele vedere allora stavolta ho provato ad essiccare con la farina di mais che è quindi una sostanza completamente naturale le ortenzie e le buganville solo questi due tipi di fiori premetto che avevo girato una parte di questo video in cui avevo provato a essiccare le rose ma purtroppo non ci sono riuscita nel senso che quando le sono andato a tirare fuori erano tutte completamente marroncine non erano recuperabili e qualcuna aveva anche fatto muffa e ho capito che il motivo era il fatto che la scatola in cui l'avevo messe era troppo grande troppo profonda e avevo messo il coperchio anche se non chiuso in modo ermetico invece ho notato che essiccano meglio questi fiori se lasciati senza coperchio in alcuni casi invece quando si usa la silice per esempio ho letto che bisogna chiudere le confezioni ma questo sarà un esperimento che comunque farò più in là appena acquisterò la silice e avrò nuovi fiori da lasciare essiccare già con questo esperimento comunque posso dirvi che i bicchieroni che sto utilizzando non sono la soluzione ottimale perché i fiori nella parte sotto non sono venuti belli colorati sono rimasti un po' beggiolini anche se non sono diventati completamente marroni come era successo con le mie rose e neanche hanno fatto muffa sono semplicemente diventati secchi ma beggiolini cosa che non mi piaceva tantissimo ma sono riuscita a recuperare e ho dedotto che sia per il fatto che i bicchieri sono troppo stretti e profondi quindi vi consiglio di utilizzare questo metodo con scatole larghe e basse per quanto riguarda le bucanville ne avevo molte e quindi ne ho lasciate essiccare qualcuna in questo modo per lasciarla un po più tridimensionale e altre le ho messe essiccare nella mia storica pressa con il legno e il cartone che adesso vedremo insieme e sinceramente per quanto riguarda sia i colori che la forma le bucanville vengono meglio nella pressa non mi entusiasmano quelle diciamo lasciate essiccare così nella farina di mais il colore non si è perso completamente ma con quell'altro metodo rimane molto più vivo e qui potete vedere come invece nel secondo bicchiere dove c'erano le ortenzie nella parte superiore hanno sicuramente cambiato colore non sono rimaste rosa ma sono diventate un po color lavanda violetto azzurrino ma quelle più in superficie appunto sono rimaste di una bella colorazione mentre quelle in fondo lo vedete anche voi sono diventate avorio e gialline cosa che proprio non mi faceva impazzire infatti vedrete verso la fine di questo video se continuerete a seguirlo che ho trovato un metodo per tingerle anche se devo ancora provare a metterle sotto resina dopo averle tinte con quel metodo ne avevo parlato nella diretta sulla resina con maura visto che mi era stata fatta questa domanda appunto su come recuperare i fiori secchi che hanno perso colore e ho deciso di fare finalmente un tentativo poi vedremo nei video più avanti quale riuscita avranno quei fiori immersi nella resina questi come vedete sono i petali di buganville messi a essiccare dentro la pressa questi fiorellini più piccolini sono dei fiorellini di lantana avevo messo le foto sul mio account instagram nelle storie chiedendo se qualcuno aveva provato se mi consigliavate di essiccarla oppure no e un paio di persone due ragazze mi hanno risposto che la lantana sarebbe diventata marrone in effetti è un fiore che trattiene moltissima umidità per cui la maggior parte dei fiorellini di lantana sono diventati troppo scuri e ho mantenuto solo quelli che avevano ancora un colore decente comunque non li ho dovuti buttare tutti per quanto riguarda i petali di buganville ovviamente sono di buganville di due tipi diversi il primo che ha la foglia più a forma di cuore e di colore più rosso acceso e l'altro invece che ha i petali più allungati che poi comunque sarebbero foglie anche quelle e di colore più violaceo come vedete anche dalle foto e dai colori sono rimasti più belli quelli messi a essiccare nella pressa che non quelli messi a essiccare dentro la farina di mais e la pressa vi ricordo è costituita da una base un coperchio in legno all'interno ci sono diversi strati di cartone ondulato con della carta che stava lì nella pressa fin da quando ero piccola e poi dei fogli di carta che ho aggiunto io che è carta forno ma arriviamo adesso alla parte in cui ho provato a tingere i fiori e allora ho preparato un piatto di plastica e il fondo di un bicchierino di plastica il piatto di plastica per non sporcare completamente il tappetino in silicone per non macchiarlo con gli inchiostri ad alcol che sono gli inchiostri che andrò ad utilizzare per tingere questi fiori e il piattino proprio per contenere gli inchiostri all'interno del piattino ho messo un diluente per gli inchiostri della marca pinata ink e poi ho provato a utilizzare gli inchiostri quelli un pochino più economici che si trovano su amazon tra l'altro ve li posso raccomandare anche con la tecnica petri dish perché li ho utilizzati e ho visto che hanno una buona durata nel tempo e l'effetto petri dish viene comunque bene quindi possono sostituire i pinata anche in quel caso ovviamente se avete già gli inchiostri ad alcol della pinata ink naturalmente siete liberissimi di usare quelli e non so se valga il fatto di diluirli con alcol per ottenere un colore più leggero io avevo comprato il diluente proprio perché lo avevo utilizzato anche nei miei primi tentativi con la tecnica petri dish e ho preferito diluirli appunto con con l'apposito diluente perché li ho diluiti come dicevo proprio per non avere un colore troppo falsato infatti ogni tanto qualcuno mi scriveva vorrei utilizzare i fiori quelli che vendono per la nail art però i colori sono veramente troppo troppo artificiosi cioè tipo con dei rosa fluorescenti degli arancioni fortissimi e quindi rendono un po più artificiose anche le creazioni in resina che poi si vanno a fare per questo motivo ho scelto di dare i colori più diluiti e anche un po mescolati tra loro infatti vedete che ho utilizzato sia il blu che il rosa che il viola all'interno dello stesso bicchiere senza cambiarlo per poter avere i fiori di diverse sfumature e non tutti tinti uguali questo sempre per simulare un effetto più naturale possibile dei fiori all'inizio del video avevo provato a fare questa operazione senza i guanti poi mi sono resa conto che mi stavo macchiando le mani e visto che gli inchiostri ad alcol tendono proprio anche a penetrare nelle fessure della pelle soprattutto tra l'unghia e il dito ho deciso di mettere il guanto almeno alla mano con cui tenevo il fiore che era quella più soggetta a sporcarsi un altro inconveniente che succede è che i fiori sono molto fragili quando vengono seccati e quindi bisogna essere molto delicati con il pennello considerate che il video che vedete è molto molto velocizzato proprio per una questione di delicatezza di pennello avevo iniziato a dipingerli con il pennello a ventaglio poi ho visto però che mi si disperdeva un po troppo colore facevo un po fatica perché i petali sono piccoli e quindi ho preso un pennellino più piccolino sempre facendo attenzione però ho fatto caso che comunque col pennello più piccolo e più concentrato diciamo con le setole tutte raggruppate mi si è rotto qualche fiorellino in più quindi forse per la delicatezza dei fiori il petalo a ventaglio era migliore ma richiede più tempo e comunque i fiori li ho messi a asciugare prima in un primo piatto dove gocciolavano un pochino e quindi dovevano stare distanziati tra loro e dopo una decina di minuti comunque l'inchiostro ad alcol si asciuga molto molto velocemente li ho spostati poi nel secondo piatto dove li ho lasciati ancora ad asciugare ma potevano stare anche più ravvicinati perché ormai non gocciolavano più dopodiché li ho sistemati per fare le foto e alla fine li ho messi all'interno di scatoline se vedete sulla destra della foto di sfondo vedete il colore originale dei fiori mentre il sulla sinistra della foto di sfondo ci sono i fiori tinti quindi secondo me in conclusione se i fiori essiccati vengono già di un bel colore al naturale non c'è motivo di tingerli anche se il colore è un po chiaro un po sbiadito l'importante che non ci siano zone troppo marroni troppo brutte se invece vengono un po begiolini e non ci serve quel colore nelle nostre creazioni si può provvedere a tingerli come anche potete tingere i fiori bianchi e quindi se essiccate delle margherite potete poi farli diventare di tutti i colori e adesso durante l'estate proverò a utilizzare questi fiori per delle creazioni in resina che ho già in mente così vi saprò dire tra un po di tempo quale sarà il risultato all'interno della resina e soprattutto se perdono colore oppure no al momento non lo so perché sono ancora appunto in fase di esperimenti spero che le idee in questo video vi siano piaciute mi raccomando lasciate un pollice in su iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e attivate la campanella delle notifiche per vedere appena saranno pubblicati i prossimi video mi raccomando seguitemi anche su instagram che vi darò qualche spoiler nelle storie sono diana archidee e adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao